La motrigina è un farmaco generalmente ben tollerato ed uno dei suoi vantaggi principali è che è neutro dal punto di vista metabolico. È noto che i pazienti con disturbo bipolare hanno un'elevata prevalenza dei fattori di rischio vascolari e della sindrome metabolica che noi psichiatri conosciamo molto bene, avendo avuto tutta la storia degli antipsicotici di seconda generazione. Proprio quelli presentano in modo eterogeneo un profilo metabolico sfavorevole. È noto, è stato clinicamente da noi provato molti anni con i nostri pazienti, che c'è una tendenza notevole all'incremento ponderale, sia pure con differenze da composto a composto, una tendenza all'iperglicemia sino a un diabete conclamato e un'alterazione del profilo lipidico. Cioè i pazienti sviluppano ipergliceridemia, ipercolesterolemia, soprattutto se questo è sotteso da una diatesi familiare positiva. Lo stesso litio, lo stesso valproato, a loro volta possono dare incremento ponderale, sia pure con meccanismi diversi, litio attraverso la ritenzione idrica, il valproato attraverso un incremento dell'appetito e delle alterazioni metaboliche anch'esso. La motresina in realtà, a differenza di tutti questi, non produce incremento ponderale, nessun studio controllato. Anzi, si è riscontrato che nei pazienti obesi si ha una riduzione di peso, non determina iperglicemia, non determina alterazioni del profilo lipidico e quindi non interviene a peggiorare quello che è già di fondo un paziente bipolare A, e cioè un elevato rischio vascolare. In realtà non induce nessun fattore di rischio che possa determinare un incremento di patologia cronica cerebro-cardiovascolare. Per quanto riguarda la patologia cerebro-vascolare sappiamo che nei pazienti bipolari questa fa parte di uno dei fattori che conducono alla cosiddetta neuroprogressione della malattia, oltre a vari fattori tipo infiammatorio, immunitario, iatrogeno e di abuso di sostanze e di stile di vita, anche le terapie possano in questo modo incidere nel rischio vascolare. La neuroprogressione è proprio quella che porta alla fine al deficit cognitivo, talora la demenza, e al deficit prestazionale che caratteristica alcuni pazienti bipolari al termine della loro malattia, cioè nelle fasi termine. Inoltre la motrigina non ha una tossicità cognitiva o comportamentale, anche questa è la differenza di molti composti che inducono sonnolenza o comunque inducono ralentamento psicomotorio. Non induce switching, cioè non induce fenomeni di destabilizzazione dell'umore, che invece sono un rischio intrinseco all'uso di antidepressivi, che possono indurre switch ipomaniacali o maniacali, ma anche all'uso di antipsicotici, abbiamo visto prima o anche seconda generazione, che sono forti di due bloccanti, e cioè la possibilità di indurre fenomeni di switching depressivo anche grave. Innanzitutto non sono molto frequenti, avvengono circa il 10% dei pazienti studiati, sono prevalentemente correlati alle dose. I più comuni sono vertigini, tassia, terremori, cefalea, talora, diplopia, mentre le disfunzioni sessuali, anche esse invece molto frequenti sia con gli antidepressivi che con altri stabilizzatori, appartengono a meno di 1% dei pazienti, quindi non sono sostanzialmente differenti da quelle che vengono prodotte con placebo. Un dato invece assaliente rispetto alla motorgina è noto, sono le eruzioni cutanee, che possono essere decisamente benigne, avvengono circa nell'8% dei pazienti adulti, prevalentemente precoci, nelle prime quattro settimane, comunque devono richiedere un'interruzione del trattamento, anche se sono in realtà poi autolimitanti e si risolvono, ma in realtà un adulto su mille sviluppa eruzioni cutanee in forma grave. Questo è forse la cosa più importante che c'è da dire rispetto alla tollerabilità di un farmaco che per il resto è assolutamente maneggevole. Queste eruzioni gravi possono avvenire in genere nelle prime 8 settimane di trattamento e possono assumere caratteristiche della cosiddetta sindrome di Steven Johnson o della necrolisi epidermica tossica, quindi in effetti gravi. Quali sono i fattori che possono favorire lo scatenarsi di queste eruzioni cutanee grave? Beh, anzitutto l'età molto giovane, cioè i bambini, ma qua stiamo parlando di adulti, e due invece fattori a cui bisogna stare molto molto attenti, il fatto di non rispettare la titolazione graduale della scheda tecnica e quindi farla troppo velocemente, essere impazienti di raggiungere la dose ottimale, o la cosomministrazione di acido valpro, che sappiamo inibisce la glicoriconiugazione e quindi aumenta in modo imprevedibile i livelli plasmatici dell'emotrigina in quel paziente. Ove si verificasse un'eruzione cutanee, abbiamo visto lieve ma maggiore ragione grave, bisogna interrompere immediatamente il trattamento. Se è grave, va consultato tempestivamente un medico o ci si reca il pronto soccorso e bisogna avere una valutazione dermatologica che comunque stabilisca la relazione tra l'emotrigina e l'eruzione cutanea, perché questo non è certa a priori. Naturalmente in questi casi, con passi di eruzione gravi, non è opportuno riprendere il trattamento con l'emotrigina, mentre in caso di eruzioni lievi si può considerare a seconda del rapporto rischio-beneficio.